Una cinquantina di ragazzi tra i 16 e i 18 anni ha passato tre giorni a Trieste per documentarsi su deportazione, lager, infaivamenti, uccisioni, eventi accaduti durante e dopo la seconda guerra mondiale, in particolare nella zona di confine tra l'Italia e il mondo slavo. Non è stata la classica gita scolastica, era il viaggio di studio e approfondimento che gli studenti hanno vinto dopo aver partecipato, con notevole impegno, all'annuale concorso di storia contemporanea promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione.